Un investimento veramente importante per la Calabria, un investimento di 60 milioni che porta a una conseguenza di oltre 200 posti di lavoro, 20 milioni sull'indotto, è qualcosa di davvero importante. Da una parte vede il potenziamento di un sito che è quello già esistente sul territorio da oltre 60 anni di Vibo Valencia e dall'altra la nascita, la costruzione di un nuovo stabilimento nell'area di Corigliano Rossano che replicherà il modello già vincente e già provato dello stabilimento di Vibo, dove è fondamentale la nostra attenzione verso la tecnologia, l'innovazione, la sostenibilità e soprattutto quello che riconosciamo il forte valore delle persone. Le persone sono il valore più importante e anche gli investimenti sono volti a supportare la crescita delle persone, la crescita delle competenze e il forte rapporto con le comunità locali che ci ospitano. Beh, io lancio proprio un messaggio personale perché io 18 anni fa mi trovavo qui, esattamente qui vicino, andavo a scuola al liceo scientifico qui di fronte e salutavo i miei compagni. Li salutavo perché da lì a poco sarei partita per andare via, perché non avevo l'opportunità di scegliere, per crescere e per realizzare le mie aspettative sono dovuta andare. Ecco, io adesso sono qui, siamo come Baker Hughes per dare l'opportunità ai giovani di questo territorio di scegliere, di scegliere sia andare ma allo stesso tempo scegliere di rimanere e rimanere con delle condizioni di lavoro di qualità adeguate, proprio in accordo a quelli che sono i nostri valori di legalità e di integrità e di sicurezza sul lavoro. Senza dubbio, noi siamo una società che sta investendo nel nostro paese da molti anni, come probabilmente sapete siamo in Calabria da oltre 60 anni, siamo un'azienda storica, il Nuovo Pignone ha circa 182 anni di storia, li faremo il prossimo anno, e negli ultimi anni stiamo investendo molto nel nostro paese. Noi siamo impegnati direttamente nella transizione energetica, siamo un'azienda che fa ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica e abbiamo scelto la Calabria come un posto dove continuare a investire nel nostro paese. Non solo la Calabria, anche le altre regioni, ma in Calabria abbiamo un progetto particolare. Le preoccupazioni secondo me sono a volte tramutabili in opportunità. Noi siamo un'azienda che storicamente vede le sfide, anche quelle più complesse, come un'opportunità. Guardate, secondo me, sempre con questa ottica al futuro, le sfide sono spesso un'opportunità. Direi assolutamente sì, è da salutare con estremo favore questo investimento 60 milioni di euro che questo gruppo internazionale, la Baker Jux, attraverso il Nuovo Pignone, vuole realizzare sul nostro territorio, a Corigliano e a Vipo Valencia. Ci sarà una ricaduta occupazionale davvero importante, significativa, non soltanto una ricaduta a volta ad occupare tecnici e operatori, ma una ricaduta importante anche perché ci sono delle competenze che dovranno essere occupate, competenze particolarmente qualificate. Ci saranno degli ingegneri che si dovranno occupare del settore energetico, ci saranno dei manager, ciò significa che i nostri giovani che si formano qui in Calabria avranno l'opportunità anche di rimanere sul nostro territorio per far crescere il nostro territorio.